All'andata vittoria per 1-0, per inciso meritata con la firma di Facundo Lescano, diventato negli ultimi giorni un autentico caso. L'italo-argentino si è sfogato ai nostri microfoni quando in realtà il silenzio sarebbe stato d'oro. Con tutto il rispetto, Lescano, a ragione titolarissimo nelle prime 12 giornate, non può rappresentare un problema. Del resto, oggi le spine sono altre. L'involuzione, soprattutto tecnica, la proposta di gioco non è più all'altezza, soprattutto i biancazzurri non tirano in porta. Al Partenio Lombardi si chiude il 2022. Colombo chiede alla squadra una prova di carattere. Speriamo soprattutto di ripetere in termini qualitativi come prestazione la gara dell'andata, che fu una gara gagliarda, intensa, fatta di aggressività, anche di momenti di sofferenza nella parte finale. Perché di fronte comunque abbiamo una signora squadra. Quello che deve essere di diverso rispetto alle ultime uscite, come ho detto, sta nel cercare di reagire in modo caratteriale, forte, al momento di difficoltà. Indisponibili Plizzari, Palmiero, Craia e il lungo degente Pellacani. Previsti due cambi. Crescenzi in difesa al posto di Cancellotti e Tupta in attacco. Probabile 11 sommarriva a tre pali. In difesa Crescenzi, Brosco, Boben e Milani. A centrocampo Giabua, Lex, Aloy e Mora. Davanti Cupone, De Saugus a supporto di Tupta. Lo slovacco sarà probabilmente preferito a Vergani. Di certo ancora panchina. Terza di fila per Lescano. Nell'Avellino assente Franco, causa influenza. Irpini in netta ripresa. Cinque risultati utili. Tre vittorie, due pareggi. In questo lasso di tempo, un solo gol incassato. Subentrato a Taurino, Rastelli ha restituito solidità e organizzazione. 16 punti, 10 partite. Soprattutto morale alto. Probabile 11-4-3-2-1. Pane, tre pali. In difesa Ricciardi, Moretti, Auriletto e Tito. A centrocampo, Dall'Oglio, Casarini e il rientrante Maisto. In attacco, Russo, Murano e Trotta. Il tecnico, Massimo Rastelli. Due grandi piazze, due grandi squadre. Che naturalmente sono partite a inizio stagione con gli stessi intenti, gli stessi obiettivi. In questo momento la classifica dice cose diverse, sapendo naturalmente di affrontare una squadra di grandissima qualità, che ha dei giocatori di grande esperienza e di categoria superiore. Quindi è una gara molto stimolante, credo, per tutte e due le squadre. Ben 29 i precedenti in terra irpina, 11 successi dell'Avellino, 13 pareggi, 5 le vittorie del Delfino. Serie A, 17 aprile 1988, cross di Colantuono. Grasso non ci arriva, Zinetti beffato, 27esimo sugli sviluppi di questo calcio di punizione battuto da Junior. Dal limite, primo Berlinghieri si coordina e in fila Di Leo, finisce 1-1. Stesso risultato, ma in B, il 15 marzo 1992, Pagano scippa il pallone a fonte e mette in mezzo. Il portiere Amato respinge, tap in di Giacomo Ceredi. Nella ripresa cross di battaglia, Savorani non trattiene, pareggia Esposito. Sempre in B, 2 giugno 1996, il Pescara di Franco Oddo prevale 2-1 sull'Avellino del compianto Bruno Pace. La sblocca Baldi, ispirato da Palladini al 34esimo, Gelsi illumina, Giampaolo raddoppia nella ripresa. Nocera, corcia incolpevole, Morgan De Sanctis subentrato all'infortunato Savorani. 15 maggio 2004, partita pazzesca. In 9, l'Avellino di Zeman si impone 3-2 sul Pescara di Cetteo Di Mascio, appena subentrato a Ivo Iaconi. Apre Kutuzov, ma Calaiò, prima pareggia in acrobazia e poi costringe il fallo da espulsione di Cesare, arbitro Saccani di Mantova. Quindi i gol falliti in sequenza da Frezza, soprattutto da Federico Giampaolo a porta vuota e da Giacomo Di Cara. Poi, secondo giallo a Contini, Avellino in 9, ciò malgrado, sorpasso di Kutuzov e 3-1 dall'ex Ivantisci. In campo anche Fabio Ferraresi, che successivamente vestirà il biancazzurro nel finale, il 3-2 di Alessandro Sbrizzo. 13 novembre 2005, il Pescara di Maurizio Sarri sbanca il partenio. Apre Bonfiglio, 2-0 di Davide Matteini, trisse di Jadid, servito da croce per l'Avellino Thomas Danilevic, subentrato proprio a Massimo Rastelli. 8 aprile 2016, come il papà, anche Massimo Oddo fa festa al partenio, senza difesa titolare, con l'esordiente Cristian Bentola, appena 18enne. Il Pescara compie un'autentica impresa, grazie a questa pronezza di Gianluca Caprari e alle reti di Lapadula e Mitrizza. Solo momentaneo il pareggio, destro all'incrocio di Castaldo. L'ultima volta da Bellino, 18 marzo 2018, gol capolavoro di Gaston Brugman, da distanza siderale, qualità eccelsa e grandissima coordinazione. Il solito Castaldo pareggia sul rigore. A 8 dal termine, il Pescara di Epifani rimette la freccia, spunto travolgente di Valzania, finalizzato da Mancuso, che deve solo spingere in rete. Sembra fatta, ma così non è. Pescara gelato da Di Tacchio al minuto 41, finisce 2-2.